ciao a tutti benvenuti o bentornati sul mio canale in questo video come promesso apro 6 mystery bags taiwanesi iniziamo da questa piccola che contiene stickers me lo sono fatto tradurre perché se no non avrei capito un accidenti quindi contiene adesivi ecco qua con 39 dollari taiwanesi ho tutti questi adesivi ecco sono veramente tanti ho riscoperto la bellezza degli adesivi perché le attacco sul computer e su altri oggetti per abbellirli ce ne sono veramente un'infinità sono tutti con la scritta in cinese se ho qualche iscritto cinese me li traduca per favore perché non so cosa voglia dire c'è questo dei soldi sono dollari si sono dollari taiwanesi queste sono delle memo credo di sì e poi ci sono tutti questi foglietti conigli vestiti un maialino un orso no maialino arrabbiato quadrifogli coccinelle ma no beh dai sono carini poi c'è poi c'è questo è per decorare la presa della corrente ma è troppo simpatico è carina anche la bustina potevo prenderne di più onestamente tanto per quello che costano sono ecco sono cose che io vi consiglio di acquistare se capitate a taiwan perché con poco prezzo avete tanti oggetti carini che potete regalare a vostra volta secondo me sono i fondi di magazzino che il negozio stesso magari confeziona non so poi apriamo la mystery bag di questi due personaggi credo che siano due uccellini non lo so non so neanche pronunciare ecco qua allora questa cos'è ha una cartelletta adesivi etichette adesive perché hanno anche lo spazio per scrivere questo è stupendo ma è un borsellino ma è troppo bello con pochi soldi veramente e questo anche un block notice ma che bello io poi sono anche una grafoma ne scrivo sempre quindi questi li uso tantissimo allora questo è doppio questo è doppio sono due adesivi eccoli adesivi anche questi credo bello sono molto soddisfatta di questo visto che tanto menano il torrone con natale io non sono da meno e apriamo anche le buste natalizie iniziamo da questa rossa perché sento che c'è qualcosa con la copertina rigida perché tra l'altro ho cominciato anche a toccare tutte le buste prima di sceglierne una ho detto apriamo questa magari poi è una cosa orrenda non lo so vediamo di che si tratta ma no ma no è però allora è vecchio è perché è vecchio perché è del 2018 ma è una wiki planner con un leone su no è solo questo però è un wiki planner con su solo questo però chi se ne frega anche no allora no ho sbagliato ho sbagliato questo è un quadernino con su un leone e questa è una un'agenda una wiki planner però voglio dire uno poi ci scrive sullo stesso e cos'è qua ah e qua c'è appunto la cartina di Taiwan ma non è andata così male pensavo fosse un libro di fiabe o che altro vabbè ho detto magari poi non ci capisco niente perché è scritto in cinese invece è andata bene questo lo riciclo per scrivere per prendere appunti insomma sicuramente non lo regalo questa è carta da regalo tra l'altro con su anche i ricci e io adoro i ricci ci ho anche tatuato qua cos'è questo è tipo un diario di viaggio sì penso di sì perché poi ci sono sempre le scritte in cinese ecco qua sì è un diario di viaggio carino sto rosicando perché non ne ho presi di più poi c'è questo su stoffe decorative ma come io che volevo tanto riprendere il riciclo creativo sono stata accontentata questa è una matita e poi c'è questa cosa che non ho capito che cosa sia cioè è una è una cosa rosa che non ho ben capito che cavolo sia boh questa è una penna queste sono delle mine ma io non le utilizzo però è molto pucciosa la confezione e infine adesivi sono stupende cioè sono stupende queste bustine le raccomando le raccomando nel mio blog sito lamaletitafelizzo.com anzi andate a darci un occhio che appunto in questo periodo lo sto aggiornando regolarmente bellissime c'è un sacco di cose utili che poi se uno compra ste mystery box in Italia generalmente trova una marea di scemate che non sa come utilizzarle invece qua le puoi usare perché poi uno si fa ingannare dalla busta con i disegni infantili invece no sono cose da adulti ma bisogna tenere a mente che in oriente il pucciosame è regolare amministrazione quindi lo utilizzano anche le persone adulte apriamo qua questa è l'ultima sera che ero a Taipei avevo questo negozio che poi non mi ricordo il nome però è un franchising un grande magazzino a pochi passi dall'albergo tre piani e aveva dentro di tutto poi nel blog lo scrivo perché se capitate a Taipei trovate tutte queste cose andate là e questo negozio vende cose carine vediamo qui che cosa mi riserva non cose doppie però per favore allora l'ennesimo quadernetto ha in questo caso c'è su un telefono vecchio stile no qua ha fogli bianchi dai non è un doppione posso disegnare quant'altro questo qua qualcosa di molto puccioso questo va bene sì un altro block notice va bene avrò da scrivere per tanto tempo un semplice sacchetto non lo sto ad aprire il classico sacchetto quadrato è un calendario del 2019 poi apriamo i pezzi forti che sono queste buste secondo me contengono cose molto carine ecco tra l'altro si possono anche riutilizzare i sacchettini qua si è spiegazzato uffa però a quanto pare sono delle bustine quindi quelle quelle tipo in cielo fanno lo so in plastica per mettere dentro il regalino con tutti i cuoricini bellissime poi c'hanno anche il nastrino per legarle vabbè fa niente tanto le utilizzo lo stesso friendship diary con tutti i disegni pucciosi no ma è una meraviglia questo ho un animo puccioso ecco perché mi piace andare così tanto in oriente altre buste per mettere il regalo di compleanno questo è un portachiave un portabedge di questo personaggio che mi pare sia una pecorella sempre utile un altro con gli smile e io adoro gli smile gli immancabili adesivi a questo si questo con gli alberi e questo con i pacchi regalo ce ne c'è tantissima roba questo un biglietto augurale un block notice con il coniglietto e hanno vari colori poi c'è questo che è in metallo non si capisce che cosa sia magari un reggilibri un decoro un pettinino un altro pettinino un altro biglietto augurale va bene ho capito che se devo fare gli auguri a qualcuno gli posso scrivere un biglietto e poi un block notice col topolino che carino apriamo l'ultima tra l'altro a proposito di rich e quant'altro ho anche preso due felpe ma mi sono ricordata solo adesso vabbè poi le vedrete una è lilla con tutti i rich e l'altra con un leone marino schedato questo un altro uguale però i fogli sono sempre quelli potrei anche regalarlo un altro biglietto augurale un altro block notice con la giraffina e altri due pettinini sì ho capito va bene eh no qua mi è andata un po' maluccio perché ho trovato doppio anche questo sempre il diario dell'amicizia le immancabili buste per i regali questo con la torre Eiffel ecco altri portachiavi questi però sono diversi sempre questo con la pecorella pucciosa questo che cavolo è boh un nastro di carta you and me altri adesivi questi sono i fiocchi e queste sono le mongolfiere bello e l'ennesimo bigliatto augurale dai vado a prendervi le due felpe che morite dalla curiosità di vederle arrivo subito ho preso questa con il leone marino si è una marca taiwanese sono andata al negozio 50% poi comunque vi lascio tutto scritto perché questo è un negozio veramente carino e poi ecco la felpa con i ricci bene io ho terminato spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo